Oggi è una bella giornata, finalmente ho ricevuto la notizia che è la mia richiesta che è stata accettata. Mi sento sollevato e libero. Sollevato e libero, si sente così oggi Stefano Geller dopo aver ricevuto la notizia più attesa. La conferma che la sua richiesta di poter ricorrere al suicidio assistito è stata accolta. Ad anticipare la risposta formale, che arriverà solo la prossima settimana, è stato il direttore sanitario dell'Ulssetpede Montana, Antonio Di Caprio, che ha fatto visita a Geller assieme ad una componente della commissione medica, a conclusione di un lungo iter che per mesi ha visto confrontarsi esperti e membri della commissione etica, fino alla decisione finale. Da adesso, quando vorrà, il 49enne affetto da una rara forma di distrofia muscolare, potrà decidere di porre fine alla propria esistenza. Per il momento però Stefano non ha preso alcuna decisione. Dipende tanto dal decorso della mia donatia, che poi dipenderà dagli aiuti economici per pagare l'assistenza. Tra qualche settimana riceverà un macchinario. Quando deciderà di azionarlo, premendo in autonomia un pulsante, si autosomministrerà una serie di sostanze. Le prime avranno un effetto sedativo, quelle successive provocheranno un arresto cardiaco. Stefano Geller è la prima persona in Veneto ad ottenere l'autorizzazione al suicidio assistito, la terza in Italia. Quanto cambia in termini di serenità una risposta come quella che hai avuto oggi? Cambia tantissimo perché la mia anima è più libera che sollevata.